non si potrà fare un po' di frattighe non si tratta solo non si tratta di solito chiamati la c'è la c'è la c'è la c'è la c'è la c'è qui va bene Chodak gugare, come ha chiamato i quali? Chodak gugare, ci vuole! Chi è benissimo! Ha detto che fatto di averlo vese! Chiodato, golfo, golfo! Il 1000 euro si bravo. Ma se? A quel momento la gente ha? Ehm Voi? 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 a presto . 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 come ci asci si asci come si asci come ti asci asci come si asci si asci asci ah 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 oro e così il fatto il fatto un bel lo una un bel ci 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 oh 4,6 milioni.